Eccoci qui, sabato notte dinner and dance del convento di Lonato e Benicio, c'è questa compagnia che sta fingendo di scappare, ma io voglio sapere cosa festeggiano, guardiamo il primo che mi dice cosa festeggiano, lei, vieni qua, è andata dalla parrucchiera per l'occasione per il suo compleanno, Allora il tuo nome? Evelyn, wow Evelyn da dove? Los Angeles? Orzivec, orzivec le depresa, le mie de Los Angeles le depresa, allora festeggi cosa di bello? 24 anni, 24 anni, come i miei tuoi senza liva diciamo, 24 anni, però per me qua in mezzo a questi maschietti c'è anche il tuo moroso, ok mi avvicino subito al moroso, guardate questo è il moroso allora, dimmi subito, mettiamo lei alla mia sinistra, ok si è pettinato benissimo, Dimmi subito, un pregio e un difetto della tua morosa? Non ha nessun difetto, solo pregi, cosa devo dire? Ok, ha già bevuto 3-4 aperitivi prima di venire qua, invece il difetto? Ti ho detto che non ne ha Non ha né difetti né pregi? No, no, è perfetta È perfetta? Se poi bevo ancora più perfetta Ok, buono, quindi facciamo subito un aperitivo all'ingresso, così facciamo subito un'introduzione a questa bellissima serata, invece dimmi te, solo il difetto voglio sapere? No, no, del tuo moroso No, non ci sono Ok, questi qua settimana prossima si sposano perché si amano alla follea, ah vi lasciate settimana prossima Ok, però in diretta voglio un bel bacio, così voglio controllare che siete veramente amorosi Aspettiamo loro a fanno entrare, un bel bacio in diretta, verso la camera Dai, dai, com'è? Allora sono fratelli, posso assicurare che sono fratelli, allora Salutiamo tutta la bassa bresciana Ciao Che viene sospenso al convento di Lonato Anche gli amici possono salutare Ciao Nooo